Eccoci qui, buongiorno a tutti, benvenuti anche oggi e come anticipava Mary, alla conclusione di questo percorso, che spero abbia fornito alcune indicazioni che possano poi essere utili nella vostra vita quotidiana, lavorativa, ci occupiamo della valutazione della qualità dei servizi web. Abbiamo visto come la progettazione dei siti e dei servizi debba tener conto non soltanto dei requisiti funzionali o desiderata dell'ente, ma anche di quelli che sono le utenze, gli utenti dei servizi e dei siti e questo si può realizzare all'interno del processo progettuale attraverso metodologie centrate sulle persone, orientate alle persone, con dei processi precisi e con degli strumenti che vengono usati, interviste, car sorting, testi di usabilità per tenere appunto conto e verificare in itinere l'adeguatezza del prodotto, del servizio all'utenza, ai bisogni dell'utenza, che altrimenti non vengono né esplicitati né presi in considerazione in un processo di tipo tradizionale. Ma come diceva Mary evidentemente abbiamo anche bisogno di capire al termine quanto bene abbiamo fatto il nostro lavoro dal punto di vista non soltanto appunto della realizzazione delle funzionalità che erano previste, ma anche della facilità d'uso, della soddisfazione, della capacità eventualmente di personalizzare il servizio o comunque di rispondere a quelle che sono le esigenze implicite o esplicite che sono arrivate dagli utenti durante la fase di progettazione ad essi orientata. Per far questo quindi ci occupiamo di valutazione. Vedremo in questo ultimo webinar come e perché valutare, la soddisfazione d'uso e perché la soddisfazione ci aiuta a darci un'idea di qualità complessiva del servizio e vedremo una serie di strumenti, in particolare vedremo, che avremo presto perché, le statistiche d'uso, l'analytics e altri strumenti di monitoraggio online di raccolta feedback che sono disponibili online. Ma vedremo anche come è possibile utilizzare i test di usabilità, i test ripetuti in questo caso attraverso la metodologia del protocollo IGLU, suggerita dal protocollo IGLU che voi avrete incontrato nel corso del mock, dell'intero corso e volevo portare a conclusione di questo di questo percorso anche il racconto di un'esperienza concreta di uso del protocollo sia in fase di progettazione sia poi dopo per la valutazione della qualità del lavoro fatto dal punto di vista degli utenti. Così vediamo all'opera anche questa cosa che avete incontrato, questa metodologia che avete incontrato che definisce lo strumento test di usabilità. Però non ci sono solo i test di usabilità e infatti parleremo anche di altri strumenti. Prima di tutto ricordo perché dovremmo misurare la soddisfazione, scusate qui il titolo si è spostato nel trasferimento della slide, comunque il titolo è perché misurare o valutare, aggiungo, la soddisfazione, ricordo che ce lo chiede il CAD. L'abbiamo visto nel primo webinar, ci sono alcuni articoli del CAD che prevedono esplicitamente che i servizi siano realizzati tenendo conto della massima soddisfazione degli utenti. E poi perché abbiamo visto già volte scorse è conveniente, altrimenti gli utenti non useranno il servizio o lo sotto utilizzeranno. Se obbligati a usarlo, ad esempio perché non possono proprio farne a meno, faranno fatica, lo useranno ma faranno fatica, parleranno male del servizio, parleranno male dell'ente, parleranno male di voi. Se invece non sono obbligati a utilizzare il servizio, alla fine troveranno un altro modo e non lo utilizzeranno. Quindi è conveniente, interesse anche dell'ente realizzare i servizi in maniera diciamo fruibile e soddisfacente. E perché, come dicevo prima, è comunque uno dei modi, alla fine il miglior modo per capire se abbiamo lavorato bene. Ecco, segnalo che è anche uscito da pochissimo, questa è la prima parte della schermata, un articolo all'interno della comunità designersitalia.it che abbiamo visto anche nei giorni scorsi, che affronta proprio da un punto di vista simile, un po' più di processo, il bisogno di utilizzare i dati per realizzare i progetti e il design e capire quindi da una parte quali sono i bisogni dei cittadini e dall'altra parte come valutarli. Ecco, i suggerimenti contenuti in questo articolo si integrano perfettamente con quello che era appunto già previsto il programma di questo webinar, per cui siamo perfettamente diciamo in linea con questo approccio misto. Quello che si suggerisce in questo articolo è di basare le valutazioni che facciamo sia in itinere sia al termine del progetto sui dati e le fonti dei dati di cui noi possiamo attrarre indicazioni sono diverse, semplicemente ogni fonte ci dà informazioni, dati e quindi informazioni di conoscenza differenti e vanno utilizzati chiaramente per scopi differenti. I test di usabilità sono una di queste fonti di dati. In generale tutti gli strumenti di coinvolgimento degli utenti ci offrono dei dati di cui noi dobbiamo far tesoro nel corso del processo di progettazione, ma anche alla fine del processo di progettazione. Però ci sono altre fonti di dati come gli strumenti di analisi delle ricerche su Google per esempio. Google è spesso diciamo una delle fonti principali di accesso ai nostri siti e analizzare le voci di ricerca, il modo in cui arrivano attraverso i motori di ricerca sui nostri siti ci offre indicazione anche su quello che loro cercano. Ma poi ci sono tutta una serie di strumenti da implementare sul sito realizzato, sul servizio, sulla parte informatica del servizio, diciamo sul nostro sito, che sono le statistiche, ma anche le heat maps e altri strumenti di raccolta informazioni. Quindi ci sono diverse fonti di cui noi dovremmo fare buon uso implementandole un po' tutte, capendole un po' tutte. Di queste fonti però è importante sottolineare che questa evidenziata, cioè il test di usabilità, è essenzialmente l'unico strumento, insomma, assieme alle interviste e al car sorting, insomma, gli strumenti di progetto, diciamo così, di coinvolgimento dei cittadini in fase di progetto, sono gli unici strumenti che si possono utilizzare prima della messa online e che quindi ci danno delle indicazioni prima che il prodotto sia finito, perché altrimenti non abbiamo dalle statistiche d'uso informazioni su come sta andando il progetto. Queste informazioni, dalle statistiche, ci sono utili alla fine per capire come sta andando il progetto realizzato. Ma noi fin dall'esecuzione, dalle varie fasi del processo che dobbiamo abituarci a valutare come sta andando. Per non trovarci poi naturalmente a sito rilasciato con delle brutte sorprese che non corrispondono a quanto noi ci aspettavamo, cosa che purtroppo a volte capita. Naturalmente dico a volte capita perché in realtà, un po' parlando con alcuni gestori di siti, un po' lavorando diversi progetti, io mi sono un po' reso conto negli anni che non sempre le statistiche d'uso vengono granché prese in considerazione da molti siti pubblici per prendere anche solo delle decisioni di modifica o per valutare come sta andando il sito. Un po' perché è difficile capirle le statistiche, soprattutto capirle rispetto a quelli che sono gli obiettivi del sito, però sono strumenti che andrebbero sempre più utilizzati perché ci offrono importanti illuminazioni, insight su come sta andando e quali possono essere eventualmente i problemi. Quando si parla di statistiche si tende a parlare sempre di Google Analytics, ma l'articolo che poco fa vi ho segnalato, appena uscito su Medium, ci parla di un altro strumento simile a Google Analytics, ma che è un equivalente open source e che si chiama P-WIC, è disponibile sia in diverse forme per l'utilizzo e l'installazione dell'utilizzo sui siti pubblici, ma su tutti i tipi di siti, ed è in corso una sperimentazione, quello che l'articolo ci dice è che è in corso una sperimentazione in questo momento all'interno della comunità designers per centralizzare la raccolta dei dati di un elevato numero di siti della pubblica amministrazione, per poter avere sia una visione di insieme di come stanno andando, sia per scambiarsi esperienze e per definire anche buone pratiche di raccolta di queste informazioni, per cui se volete su quell'articolo potete trovare anche indicazioni su come partecipare a questo progetto centralizzato, ovviamente ognuno raccoglie i siti per sé, ma poi si possono rendere disponibili alcuni di questi siti in maniera uniforme e centralizzata, in modo da capire anche rispetto agli altri come stiamo andando, trarre qualche beneficio dall'esperienza altrui, eccetera. Questo è il sito, diciamo, di schermata iniziale del progetto P-Week, sostanzialmente già dalla dashboard, dalla bacheca che vedete raffigurata in questa schermata, si capisce che si tratta di uno strumento ispirato a Google Analytics, ma insomma liberato dalle necessità assolutamente commerciali di condivisione dei dati con la multinazionale statunitense. Ok, partiamo quindi proprio da qui, partiamo proprio visto che siamo in argomento, partiamo dalle statistiche d'uso, cioè da quindi questo strumento di monitoraggio che ci aiuta a capire come sta andando il nostro sito. Le statistiche d'uso quindi sono uno strumento che ci aiutano a capire come sta andando quando il sito è finito, dopo vedremo appunto l'esperienza d'uso del protocollo per siti in fase di progettazione. Le statistiche d'uso per un sito privato sono una delle fonti di informazione principali, non l'unica, i siti privati hanno spesso degli obiettivi commerciali e quindi sono quelli che definiscono se il sito ha successo o non ha successo, nemmeno volendo l'esperienza utente, ma la redditività del sito. Nel caso dei siti pubblici questo è vero fino a un certo punto, nel senso che non è vero dal punto di vista commerciale, in alcuni casi si può valutare l'efficacia di un sito valutando quante transazioni efficaci, corrette, complete il sito genera, ma questo dipende chiaramente dal tipo di servizio, ci sono alcuni siti e servizi nei quali è plausibile e sensato valutare le transazioni, altre che magari servono soprattutto a fornire informazioni o a far scaricare moduli, in cui è più difficile valutare dalle statistiche d'uso l'andamento del sito. Vediamo quelle che sono le informazioni principali che si possono trarre da questi strumenti. Qui abbiamo un esempio, neanche particolarmente recente, della bacheca di Google Analytics e vedete subito che la tipica forma di rappresentazione dei dati è su una linea temporale che descrive gli accessi o il numero di pagine viste in un arco di tempo e quindi capiamo l'andamento che ha il nostro sito. Questo tipo di andamento che vedete qui è abbastanza comune su quasi tutti i siti, segnala sostanzialmente un andamento settimanale. Vedete che ci sono dei picchi nel grafico in alto che poi scendono con dei picchi in basso periodicamente a segnalare i weekend e quindi la maggior parte degli accessi avviene durante i giorni lavorativi e con un calo di accesso nelle giornate del fine settimana. Ma accanto a questo ci sono una serie di altri numeri di altri dati che vedete elencati sotto e altri che possono essere selezionati dal menu dal menu a fianco. La comunità designer citalia.it offre da poco anche una panoramica su quelle che sono le principali metriche utilizzate e utilizzabili con questi strumenti, questo ma anche più weak. Quindi la cosa migliore è far parlare direttamente le definizioni che vengono in qualche maniera presentate su questo progetto che è designers, scusate qui c'è un altro refuso, non è più, dovrebbe essere designers credo sul punto che sta venendo anche il dubbio. Comunque è lo stesso sito che abbiamo visto la volta scorsa, siccome ha cambiato nome recentemente adesso non vorrei sbagliarmi e cambiarlo ulteriormente io. È facile raggiungerlo perché naturalmente anche se indicate design o designer, ci dovrebbe essere un redirect diretto al sito vero e proprio, perché appunto il nome è stato cambiato e quindi poi il vecchio nome è stato usato per reindirizzare sul nuovo. Sì, c'è soltanto una S in più Maurizio, scusami se mi interrompo, è design, ho messo il link, sì sì. Grazie Mary della correzione, il link è stato in chat, mi scuso quindi di questa imprecisione dovuta al fatto che il nome è stato cambiato un paio di volte. Le principali metriche indicate sono quindi tipicamente le visite, le visite uniche e le visualizzazioni di pagina. Sono le metriche principali per definire il volume di trattico in un certo lasso temporale. Le visite in qualche maniera dovrebbero essere collegate non al numero di pagine, ma quante volte un utente visita quel sito, anche lo stesso utente più volte. Questo differenzia la metrica dalle visite uniche, dove sostanzialmente si cerca attraverso vari sistemi di separare ciascun utente. Quindi se un utente torna sullo stesso sito più volte, conta come un'unica visita unica, mentre nelle visite viene contato per il numero di volte che ritorna sul nostro sito. Quindi sono due dati simili, ma che provano a offrirci un livello di dettaglio differente. Le visite uniche sono sostanzialmente il numero di persone che dovremmo aver raggiunto. Poi chiaramente questo delle visite uniche è un dato soggetto a molto rumore, perché non è facile in realtà identificare utenti unici, soprattutto se cambiano macchina, cambiano sistema operativo, browser, dotazione, quindi non è assolutamente detto che ciò corrisponda alla verità, però è un tentativo di entrare un po' più nel dettaglio. Le visualizzazioni di pagine invece raccolgono il numero di pagine visitate sul sito da tutti gli utenti, contando anche tutte le pagine legate allo stesso utente. Un utente può arrivare a vedere soltanto l'home page, oppure visitare più pagine, e ogni pagina che quell'utente visita vale come visualizzazione di una pagina. Quindi il numero di pagine visualizzato da tutti gli utenti, moltiplicato per tutti gli utenti che hanno visitato il nostro sito, costituisce questo dato. Quindi sono le metriche principali per vedere quanta gente vede il nostro sito. Il numero di pagine visitate però inizia a dirci anche qualcosa di quanto tempo stanno sul sito, dato che viene sintetizzato talvolta meglio dalla prima metrica di quest'altra slide, cioè le pagine visitate per visita. Sostanzialmente se in ogni visita una persona guarda soltanto l'home page o la pagina d'ingresso, e poi se ne va, questo numero dovrebbe essere 1. Se invece tutti i visitatori guardano 3 pagine sul sito, questo numero dovrebbe essere 3. Evidentemente il numero è una media, quindi tiene insieme tutti i visitatori che vedono una sola pagina nel sito, con tutti quelli che ne visitano più di una, perché intraprendono un percorso, cercano delle cose, cliccano sui link, eccetera. E quindi diciamo il numero di pagine visitate o viste per visita è un numero rilevante della profondità di interazione con il sito. E idealmente dovrebbe essere diciamo maggiore di 1. A meno che il nostro sito però non sia costruito per essere visitato soltanto dai motori di ricerca, e quindi per trovare risposte puntuali a domande puntuali, nel quel caso dovrebbe avvicinarsi a 1, perché sarebbe una buona cosa che le persone arrivino a dei motori di ricerca e trovino subito la risposta sulla prima pagina del nostro sito e poi se ne vadano. Ecco, come vedete, se il nostro sito offre procedure o se il nostro sito offre soltanto informazioni puntuali, ecco, queste metriche cambiano di significato. Ecco perché non è sempre semplicissimo dire da questi numeri come sta andando il nostro sito. Dipende, non solo, le porzioni diverse del sito possono, come dire, giovarsi e essere valutate diversamente per quanto riguarda questi parametri in base allo scopo. La stessa cosa vale anche per la durata delle visite, cioè la media aritmetica della durata in secondi, di solito, o minuti e secondi di una singola visita al sito. Ovviamente, se questo tempo è molto basso, qualcosa chiaramente non va. Se però, in una procedura che dovrebbe essere abbastanza rapida, questo tempo invece è molto alto, c'è anche qualcosa che non va. E torniamo sempre al problema di interpretare questi numeri in base allo scopo della pagina o del gruppo di pagine che stiamo selezionando. Il tempo sulla pagina è un dato preciso per la singola pagina. Su quella pagina quanto tempo, in media, stanno gli utenti. Questo è un dato importante perché, appunto, può consentirci di valutare le differenze fra singole pagine. Tipicamente, non lo so, pagine di archivio o di elenco hanno tempi di permanenza sulla pagina che dovrebbero essere più bassi delle pagine che contengono contenuti, per darci un'idea. Se invece le pagine che contengono contenuti hanno tempi di permanenza molto bassi, è probabile che le persone non siano soddisfatte di quel contenuto e quindi non lo leggano, scorrono rapidamente e se ne vadano via. Quindi, ecco, le valutazioni di questi parametri, come dicevo, cambia a seconda delle tipologie di pagine. Un altro dato abbastanza importante è quello che viene nella successiva slide, la frequenza di rimbalzo, cioè la percentuale di visitatori che abbandona il sito dopo una sola pagina. è sostanzialmente considerato una metrica di quanto male performa il sito. Cioè, se le persone arrivano, vedono una pagina e se ne vanno via, normalmente non è una buona cosa. A meno che il sito non sia fatto per avere, come dire, visitatori che si comportino così, cioè che arrivino su una pagina e basta. Non lo so, faccio un esempio, un sito di news rapide, che presenta una pagina di news rapide, io mi aspetto che abbia una frequenza di rimbalzo molto elevata e non per questo ciò debba essere interpretato come una cattiva performance. Per la ragione molto banale che le news rapide vengono aggiornate in tempo reale e quindi una persona potrebbe tornare più volte a vedere l'home page con le news rapide per vedere cosa c'è di nuovo, leggerlo e andarsene, senza motivo, senza bisogno di approfondire, senza nemmeno la necessità di andare a leggere un approfondimento più lungo sulle singole notizie. In quel caso, chiaramente, la frequenza di rimbalzo potrebbe essere elevata. La desiderabilità o meno, quindi, che la frequenza di rimbalzo sia alta o basso dipende assolutamente dal tipo di sito, dagli obiettivi del sito e, nel caso dei siti privati, dal modello di business del sito. Nel nostro caso, invece, dal tipo di servizio offerto. Ecco, altri dati particolarmente interessanti che possono esserci utili sono le nuove visite o il numero di nuovi utenti rispetto agli utenti di ritorno. Questo ci dice quanti utenti nuovi acquisiamo nel dato periodo di tempo. Ovviamente, in un sito, anche questi sono dati il cui valore cambia a secondo del tipo di sito. Nel caso dei servizi pubblici, in particolare dei servizi territoriali, locali, l'utenza massima, diciamo, è predefinita e corrisponde alla percentuale di popolazione di quel territorio che naviga online e che ha bisogno del servizio. Il nostro obiettivo è sia aumentare questo numero perché più persone che hanno bisogno del servizio che vanno online sia perché tutti quelli che vanno online lo conoscono e lo utilizzino. E quindi, anche in questo caso, abbiamo dei dati di base da cui partire e che ci possono, in qualche maniera, guidare nell'interpretazione di questi dati, di queste metriche. Un'altra metrica importante è la velocità di caricamento del sito. Secondo alcune ricerche, più alto è il tempo di caricamento del sito, quindi più bassa è la velocità di caricamento del sito, maggiore è il tasso di insoddisfazione. Cioè, l'insoddisfazione è strettamente legata alla lentezza nel caricamento delle pagine. Quindi un dato tecnico che però è particolarmente importante per garantire che le persone siano in qualche maniera, che rimangano sul sito e che siano soddisfatte. Questo dato è anche proporzionale al numero di abbandoni. Più stanno le pagine a caricarsi, più la gente abbandona il sito prima di completare quello che voleva fare. Questo vale per i siti privati e pubblici, naturalmente. Se sono obbligati a rimanerci, aumenta l'insoddisfazione. E poi ci sono altri attributi che questi servizi di statistiche possono identificare, cioè si possono impostare intervalli temporali sui singoli accessi, si possono definire le provenienze geografiche o di lingua dei visitatori, le tecnologie utilizzate, in modo da capire anche per quali tipi di tecnologie ottimizzare il nostro sito, posto il fatto che bisognerebbe renderlo accessibile a tutti, sappiamo, ma sapere quali caratteristiche hanno i dispositivi principali che usano i nostri utenti è comunque una cosa abbastanza utile e importante. Un'altra cosa che queste statistiche ci dicono sono da dove arrivano i nostri visitatori, come viene usata la nostra funzione di ricerca sul sito, e spesso è possibile impostare degli obiettivi, cioè, soprattutto in caso di procedure composte da più passaggi, è importante capire quanti di coloro che iniziano la procedura arrivano alla destinazione. È possibile attraverso questo sistema di statistiche, questi sistemi di statistiche, è evidentemente impostare alcune pagine come destinazione e come punto di arrivo finale di una procedura denominata in un certo modo. E quindi il servizio di statistiche ci offre dei dettagli specifici su queste procedure che ci semplificano l'analisi di quello specifico servizio, eventualmente. In generale, al di là delle scelte specifiche che faremo sui nostri siti, questi indicatori, pur non essendo sempre semplici da comprendere, sono comunque necessari. Sono comunque indicatori che è importante raccogliere, anche se non sappiamo bene come usarli, per stabilire dei valori di partenza attuali, prima di intraprendere un progetto di redesign, di miglioramento futuro. Perché ci danno un punto di partenza, un benchmark, che ci sarà utile quando valuteremo poi in seguito la qualità del lavoro che avremo fatto. Quindi vanno comunque utilizzati. Ecco, vediamo ancora un paio di possibilità, di schermate di questi siti. Qui ci sono le fonti social di visita del nostro sito. Si vede come ci sono alcune... Queste fonti possono essere utilizzate per l'intero sito o per specifiche pagine, per valutare, ad esempio, l'efficacia di alcune specifiche campagne social. Se stiamo attivando, se abbiamo un social media manager che rilancia alcuni contenuti sul nostro sito, questo chiaramente ci consentirà di valutare quanto ha reso questa campagna in termini di visite. Ci sono altre funzionalità anche più avanzate che possono essere evidenziate, in particolare il comportamento sequenziale degli utenti a partire da certe pagine. Vado avanti un po' più veloce, questa immagine dovrebbe essere un po' più significativa. Questa indica il comportamento sequenziale a partire dalla pagina che sta sulla sinistra, che è in questo momento, diciamo così, l'home page. Ecco, a partire dall'home page, in un dato arco temporale, questo schema ci mostra i flussi verso altre pagine o verso l'uscita. La freccia rossa che sta accanto al rettangolo verde più grande, ci indica che una buona metà, diciamo così, dei visitatori di questa pagina se ne sono andati, mentre l'altra metà si è divisa fra queste pagine principali e segue poi l'andamento degli utenti su quelle altre pagine per dire su ogni pagina poi quanti proseguono e quanti invece abbandonano. è evidente che più elevato è la cascata rossa, cioè l'abbandono delle pagine, peggio è per la nostra pagina o per il nostro sito. E vedrete, analizzando questo tipo di comportamento sequenziale, che ci sono alcune pagine che hanno dei tassi di abbandono, cioè di uscita, particolarmente elevati. In un'analisi, questo ci indica dove andare a cercare dei problemi. Ci possono essere delle pagine in cui noi ci aspettiamo un elevato numero di uscite, perché magari è la pagina finale di ringraziamento, di chiusura di un servizio e allora va bene, ma ci possono essere delle pagine dove l'abbandono è inaspettatamente elevato. Questo tipo di analisi ce lo indica e ci aiuta a capire che succede. In un servizio per un lavoro svolto un paio d'anni fa è capitato proprio che attraverso questo tipo di statistiche ci siamo resi conto del malfunzionamento di una pagina interna di una procedura che altrimenti non ci sarebbe mai venuto in mente di andare a controllare. E questo insomma capita comunemente. C'era un errore di tipo tecnico che impediva in quel caso la prosecuzione del compito o lo rendeva molto difficile e in quel caso ci è servito questo metodo diciamo statistico aggregato per capire che c'era qualcosa che non andava andare là a trovare la pagina e capire che la pagina non funzionava. Quindi è qualcosa di abbastanza utile e mirato su singole pagine ecco qui abbiamo l'andamento della pagina richiedi speed di una pagina singola lo stesso tipo diciamo di informazioni col servizio p-week quello suggerito dalla comunità designers e quindi la pagina al centro è richiedi speed questa pagina ha 15.000 visualizzazioni in entrata c'è un'analisi del traffico entrante e del traffico uscente alcune di queste visite di queste visualizzazioni sono ricaricamenti della stessa pagina cioè persone che erano già arrivate lì e ricaricano la pagina per qualche ragione o perché la pagina si autoricarica da sola anche se non dovrebbe o perché qualcuno clicca sul link che ricarica la pagina inadvertitamente o per altre ragioni quindi non tutte queste 15.000 visualizzazioni sono ingressi alcuni sono sono ricaricamenti queste pagine vengono poi analizzate l'ingresso per esempio viene diviso come vedete da pagine interne da alcune pagine specifiche che drenano la maggior parte del traffico verso questa pagina che sono speed.gov.it speed.gov.it domande frequenti servizi serve aiuto se è una pubblica amministrazione e poi un insieme di altre e poi ci sono alcuni che arrivano dai motori di ricerca o da link presenti in altri siti web ma sono una componente più piccola altri accedono direttamente a quella pagina perché hanno salvato il link l'accesso diretto quindi questo ci aiuta a capire come funziona la pagina come viene acceduta la pagina ma ci aiuta anche a capire come si esce da questa pagina dove si va dopo questa pagina si va alla pagina interna e la maggior parte se ne va verso la pagina speed.gov.it quindi torna diciamo all'home page e altre pagine la grande maggioranza va lì e poi quelli che rimangono sul sito naturalmente non di tutti il vero problema è che la maggior parte invece di questi visitatori che stanno su questa pagina sceglie di uscire o di seguire un link esterno la maggioranza assoluta sceglie di uscire poi c'è un'altra buona componente che sceglie di andare verso il link esterno e solo una piccola parte diciamo va verso resta sul sito e va verso altre pagine e qui viene indicato quali pagine ecco questo tipo di analisi ci aiuta a capire per esempio come sta facendo la pagina quanto bene sta facendo la pagina quanto risponde alle nostre esigenze ovviamente se noi progettiamo questa pagina con un'idea in mente cioè pensando che questa sia la pagina iniziale di un processo per esempio di richiesta speed l'idea che si torni all'home page o che si esca non va bene ci indica un problema l'idea invece che magari questa sia andando a una pagina informativa e la quale non si può iniziare una procedura spiegherebbe meglio questo tipo di comportamento quindi ecco la valutazione è assolutamente dipendente dagli obiettivi del sito ecco la stessa cosa vale per questo tipo di analisi vale per quelli che si chiamano i funnel cioè i percorsi a imbuto si possono definire come dicevo prima degli obiettivi attraverso questi sistemi di statistiche questi obiettivi possono essere sono solitamente pagine di una sequenza che vengono preindicate al sistema e il sistema vi mostra a partire dalla prima pagina come prosegue il percorso degli utenti che iniziano quella procedura questo è uno dei modi quest'altro è un po' più visibile più comprensibile diciamo ed è vedete come dalla prima pagina l'utenza si assottigli di volta in volta sulle pagine successive questo ci dice evidentemente che è normale che tra quelli che iniziano una procedura solo una parte arrivi in fondo quindi una certa quota di abbandoni progressivi è fisiologica se questa quota però è esagerata se tra una pagina e l'altra c'è un salto esagerato c'è un problema su quella specifica pagina comunque ci dice dove andare a lavorare per ridurre questo tipo di abbandono ecco qui vedete che l'abbandono principale è evidentemente tra il primo e il secondo passaggio dove l'abbandono è del 58% insomma servizi di questo tipo ce ne sono molti e consentono delle interessanti analisi sul nostro servizio un altro legati a questa tipologia di servizi che prevedono l'inserimento di alcuni codici javascript all'interno della pagina delle singole pagine ce ne sono altri ad esempio ci sono dei servizi che consentono di catturare per ogni utente i movimenti del mouse lo scroll della pagina le digitazioni sui campi dei form in questa maniera ricostruendo quasi un video delle singole visite dei nostri visitatori quindi noi riusciamo a seguire quello che le persone fanno sulla nostra pagina rimontandola come un video scomponendola nelle componenti essenziali ecco questo un esempio quello che si può fare quello che si può visualizzare è ad esempio qui si vede abbastanza bene ma insomma il movimento del mouse tra i vari oggetti della pagina ma vedete sotto che c'è anche una timeline che indica proprio la possibilità di ripercorrere tutta la visita di questo utente attraverso diverse pagine non solo una pagina del nostro sito si ricostruisce praticamente l'intera visita e si sa cosa è stato visto dove si è soffermato di più dove è stato cliccato su quale campo del form ha iniziato una compilazione e dove l'ha interrotta e a quel punto del sito ha abbandonato e dopo aver fatto che cosa questo tipo di analisi è su visite singole quindi capite bene che è un tipo di dato molto differente dal servizio di statistiche sebbene basato sullo stesso sistema l'inserimento di un codice javascript nella pagina è molto diverso perché identifica singole visite la maggior parte delle visite che riceviamo sul nostro sito sono irrilevanti ci piacciono la maggior parte sono una pagina e se ne vanno comunque magari non se ne vanno ne cliccano un'altra la guardano e se ne vanno sono visite diciamo non focalizzate a un obiettivo ben preciso ma a farsi un'idea del sito solo alcune delle visite sono visite finalizzate a qualcosa di preciso questo sistema consente di analizzare un po' nello specifico vedere le singole visite significative con questo sistema io per esempio ho potuto sul mio sito capire perché una persona che aveva manifestato interesse per un corso presentavo sul sito ha deciso poi di non iscriversi non me l'ha detto ma mi sono accorto rivedendo la sua visita proprio la sua visita e che fosse la sua visita purtroppo diciamo questi sistemi consentono di capirlo al di là di ogni legittimo dubbio dico purtroppo perché non sono sistemi di profilazione ma per come funzionano possono consentire di identificare la visita del singolo utente ho verificato che nella compilazione di un form si è verificato soltanto con questo utente un errore tecnico imprevisto che ha dato evidentemente l'idea di sito poco affidabile o poco ho fatto male insomma non sufficientemente di qualità perché era un errore che non avrebbe dovuto presentarsi e in effetti non si è presentato con nessun altro delle persone che si erano interessate al corso soltanto con questa persona il problema si è verificato è un problema che non è stato possibile nemmeno replicare è probabilmente dovuto a impostazioni tecniche della sua macchina problemi di time out di sessione non è stato impossibile risalire alla ragione del problema e però quello che sappiamo è che proprio quell'utente non ha completato alla fine l'iscrizione al corso quindi abbiamo un'idea dell'impatto diretto degli errori che avvengono sul nostro sito sulla sulla qualità percepita sulla soddisfazione questa persona ha avuto l'impressione legittimamente che il sito non fosse di sufficiente qualità e ha deciso di non iscriversi al corso per un problema che non si è mai più presentato e che però e che non avrei quindi potuto dedurre osservare senza questo sistema di registrazione degli eventi questo per darvi l'idea anche del grado di sofisticatezza o di sofisticazione che è possibile sofisticatezza di naturalmente che è possibile ottenere da questo tipo di strumenti ovviamente vanno usati con una certa diciamo consapevolezza e legandoli agli obiettivi del sito altri strumenti che vedrete sono le mappe di calore che consentono di definire quali sono diciamo i principali punti di click sostanzialmente sul nostro sito un dato che francamente io ho trovato sempre poco utile ma esiste qualcuno potrebbero anche interessare e ci sono sistemi di feedback più diciamo liberi come questo presentato sul sito Agid dove era possibile sia valutare l'utilità della pagina sia magari inviare un commento libero tutte cose puramente utili ma che tendono inevitabilmente a far prevalere i giudizi negativi quindi vanno sempre un po' viste con attenzione e con cautela ecco andando avanti ricordo che le statistiche contengono molto rumore e che la maggioranza delle visite come dicevo prima sono non significative quindi è sempre un po' difficile capire cosa ha senso fare infine come avete forse già visto nei moduli del corso ci sono dei metodi più diretti per capire la qualità di un nostro sito che non sono legati alla performance ma al giudizio soggettivo la componente soddisfazione dell'usabilità quella che non si vede con le performance ma che bisogna necessariamente chiedere attraverso domande o questionari che vanno scelti tra quelli che meglio ci danno indicazioni sulla soddisfazione quello che meglio forse ci dà indicazioni in maniera più rapida è uno strumento molto criticato naturalmente noto come net promoter score o nps e che si presenta in questa forma con quanta probabilità consiglieresti questo servizio ad un amico o a un collega e la valutazione va da 0 a 10 la probabilità minima è 0 la probabilità massima è 10 questo questo strumento è composto da una domanda secca singola con 11 intervalli ed è uno strumento che è particolarmente semplice evidentemente da somministrare lo si può fare con grande facilità infatti lo fanno molti siti e molti servizi io vado avanti di due slide per vedere come Alitalia fin da precedenti versioni del sito per esempio utilizzava questo strumento per valutare le procedure di acquisto ecco questa domanda al termine di procedure complete dà una buona indicazione della qualità percepita e della soddisfazione della procedura completa non ha molto senso evidentemente porre domande del genere in tutte le pagine del nostro sito perché non rappresentano un'esperienza di navigazione ma rappresentano un giudizio sulla singola pagina e non abbiamo modo di sapere se su quella singola pagina l'utente ha effettivamente letto o non letto il contenuto quindi rischiamo anche qui di incoraggiare solo quelli che danno giudizi negativi il dato finale di questa domanda è una misura secca che va da meno 100 a 100 meno 100 se tutti non consigliano il sito più 100 se tutti hanno un'elevata probabilità di consigliare il sito quindi evidentemente è una misura che ci dice se uno consiglia il sito o il servizio vuol dire che è soddisfatto e secondo alcuni è correlata con la crescita a lungo termine di un'azienda di un servizio è una misura di fidelizzazione la media per i siti web nota è di 14 quindi abbiamo anche un'idea di come facciamo rispetto ad altri siti oltre a questo strumento abbiamo questionari più lunghi e più specifici alcuni li avete forse visti anche nel modulo come come il 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 cioè un questionario di diciamo soddisfazione legata all'usabilità più specifica del sito che è una delle componenti che può aiutare nella nella valutazione del della qualità di un sito prima di andare avanti a questo punto andrei più rapidamente verso una rapida un rapido racconto dell'esperienza di cui vi parlavo prima se riesco ad arrivare sulle slide che ci interessano che non riesco qui ok ancora un po' più sopra scusate che scorro lo strumento ok abbiamo ancora ci hanno regalato ancora qualche minuto che ci potrà essere utile per se avete un attimo di paziente vi chiedo scusa riesco a interagire piuttosto male con questo strumento di selezione delle delle slide e vediamo se questo ci fa arrivare al punto giusto ok da qui torno un po' indietro ecco dicevo che volevo raccontarvi un attimo un'esperienza concreta d'uso di alcuni di questi strumenti incluso il test di usabilità all'interno di un caso reale ecco fin qui abbiamo visto diciamo una serie di strumenti che possono essere utilizzati a sito esistente ma il problema che abbiamo noi nella progettazione è capire se stiamo facendo bene in itinere durante il progetto abbiamo detto le statistiche vanno molto bene una volta che il sito è online ma non vanno bene per valutare il sito prima durante il processo di progettazione colgo l'occasione per rispondere rapidamente alla domanda che vedo qui di Giuseppe come si individua un utente nuovo o di ritorno così chiudiamo il discorso statistiche diciamo d'uso i javascript che vengono inseriti nelle pagine memorizzano una serie di informazioni sullo user agent sul programma che l'utente utilizza nonché sul suo sistema operativo e sul suo indirizzo IP quindi vengono considerati di ritorno gli utenti il cui profilo è già stato registrato in precedenza fondamentalmente questo sistema è esente da errori no ma è molto più raffinato di quello che pensiamo il problema vero viene da utenti ripetuti su macchine diverse ma questo sistema riesce a identificare molto molto precisamente la singola macchina anche se abbiamo tutti Windows che ne so 8 e tutti usiamo Explorer oppure Chrome i nostri sistemi operativi la nostra versione di Windows il nostro indirizzo IP il tipo di rete sono sufficientemente distinti da creare un profilo che è quasi unico di noi come visitatori questo viene riconosciuto da questi sistemi di statistiche non sono perfetti ma non perché non sappiano identificarci per altre ragioni perché noi ci spostiamo e usiamo molti strumenti ma il singolo strumento viene facilmente identificato ok detto però questo è chiaro che durante il processo di progettazione abbiamo bisogno di capire meglio come funziona il nostro sito durante la progettazione di un software di un servizio diciamo web di carattere medico era stato previsto un piano di test con il protocollo IGLU il primo test pilota fatto su una versione semifunzionante di questo servizio ci ha offerto da subito una prima idea di qualità del servizio fino a quel punto notate che questo specifico servizio di cui adesso non voglio dare ulteriori dettagli non posso e non voglio naturalmente non è questo il punto era stato già progettato in un'ottica di co-design cioè coinvolgendo gli utilizzatori finali che erano professionisti della sanità e quindi lavorando insieme a loro nonostante questo il primo test di usabilità con utenti reali che mostrava un prototipo di questo prodotto ha ottenuto un tasso di successo di efficacia del 33% cioè soltanto un task su tre veniva completato efficacemente il che significa un'efficacia disastrosa l'utilizzo di questi strumenti di queste metriche anche con pochi utenti non è che non ha la pretesa di dare un voto al sito ma di farci capire quanto bene o quanto male stiamo facendo rispetto a una media la media nota di efficacia sui siti web da diverse fonti è il 78% se quel sito fosse andato online se quella applicazione fosse andata online in quel momento si sarebbe posizionata sulla coda più bassa diciamo così della distribuzione 33% è molto molto basso sei utenti con sei task differenti in quel caso anche i diversi task avevano diciamo un grado di difficoltà differente per cui alcune attività erano facili su quel sito alcune erano difficili la più difficile o quella percepita più difficile era il task corrispondente al task 2 lo si vede qui attraverso una valutazione fatta con una domanda un questionario di valutazione della difficoltà percepita dei singoli task o con il task time il tempo sul task che è un altro tipo di metrica che è possibile diciamo raccogliere che dà un'indicazione della difficoltà intrinseca dei compiti però in questo caso la difficoltà intrinseca dei compiti non è un buon indicatore come vedete in questo caso i sei task hanno tempi di esecuzione avevano tempi di esecuzione decrescenti che significa fondamentalmente che il primo task era molto difficile il secondo ci mettevano tanto tempo al secondo ci mettevano un po' meno tempo e via via man mano che stavano sul sito questo a prescindere diciamo così da ogni altra considerazione che significa che il sistema era per loro molto difficile da apprendere ma una volta appreso diciamo che alcune cose miglioravano questo è un modo di interpretare questi dati ce ne sono altri un'altra indicazione congruente col tasso di efficacia è che il numero di problemi singoli incontrati nella sessione di test è stato di 150 cioè 6 utenti che svolgevano 6 task su questa applicazione hanno incontrato 150 diversi problemi che andavano dal non trovare il menu a sbagliare dove cliccare a un problema tecnico diversi tipi di problemi allora se mettete assieme il tasso di efficacia basso il numero di problemi incontrato e anche i questionari che abbiamo somministrato che ottenevano sia per il SUS che per l'NPS cioè i due questionari più comuni valori molto bassi alla slide 65 capiamo qual è questo livello cioè 47 per il SUS e meno 100 per l'NPS e fermo un attimo e dico soltanto un paio di cose su questi dati quando raggiungiamo un attimo questa slide significa sostanzialmente in particolare l'NPS che è la domanda seca che abbiamo visto prima anche sul sito all'Italia consiglieresti o no questo servizio a un collega o a un amico ecco il dato meno 100 che è questo significa fondamentalmente che tutti hanno risposto che non l'avrebbero mai consigliato allora mettete assieme questo dato mettete assieme un valore del SUS molto basso un 33% di successo 150 problemi incontrati vedete che tutti i dati ci dicono che la qualità è bassa in seguito il lavoro è consistito nel tentare di alzare questi numeri di aumentare la soddisfazione quindi sia segnalando i problemi per una loro risoluzione sia cercando di capire quali altri problemi c'erano molti problemi derivavano dal fatto che si trattava di un'applicazione nuova e che le persone che per il quale era progettato questo strumento erano relativamente anziane informaticamente anziane si è visto cioè che poiché la popolazione di riferimento che avrebbe dovuto usare questo sistema aveva attorno ai 60 anni le persone con 60 anni sono abituate a interagire col computer attraverso metodi differenti da quelli previsti dall'applicazione lo stesso test fatto poco dopo con utenti di 38 anni che non erano però il nostro utenza tipo era solo per verificarla questa cosa con 38 anni hanno ottenuto un tasso di successo dell'89% quindi siamo passati con un'applicazione che era praticamente quasi uguale in quel momento da un 33% della popolazione di 60 anni all'89% di successo della popolazione dei 38 anni il che ci dice molte cose ci dice anzitutto che non esiste l'usabilità o la qualità di un servizio in assoluto esiste la qualità o l'usabilità e la soddisfazione di specifici utenti sappiamo che chi è più anziano fa più fatica in alcuni casi come dire non possiamo farci molto possiamo cercare di semplificare il più possibile di mettere a disposizione degli ausili ma in quello specifico caso si trattava di professionisti per i quali specificatamente noi progettavamo e quindi era del tutto inappropriato non tenere conto del fatto che avessero 60 anni non progettavamo per i 38 anni per i 38 anni avremmo fatto un buon lavoro per i 60 anni no di conseguenza si sono scelte alcune strategie di modifica dell'interfaccia di affiancamento anche per insegnare l'applicazione visto che giunti a quel punto non era possibile intervenire radicalmente sull'interfaccia come forse sarebbe stato preferibile il che ci dice ancora un'altra cosa se questo test fosse stato fatto condotto prima di arrivare ad un prototipo semifunzionante si sarebbero potuti identificare alcune criticità e modificare l'impostazione generale purtroppo avendo iniziato questo piano di test un po' troppo avanti nel ciclo di progetto si è dovuti ricorrere ad altre strategie come l'affiancamento e alcune modifiche in corsa non ottimali che hanno portato alla fine il tasso di successo al 75% ma comunque chiaramente non è il risultato ottimale abbiamo visto che in uso molte persone non riuscendo a svolgere tutte le attività che avrebbero dovuto svolgere facevano estremo ricorso costante ricorso all'assistenza per esempio oppure si facevano aiutare in alcune attività da assistenti più giovani quindi adottavano delle strategie di affrontamento e di evitamento dei problemi che il software e l'interfaccia dava questa esperienza è molto interessante la voglio raccontare racconto perché non è così consueto seguire tutte queste fasi dall'inizio alla fine dovrebbe diventarlo perché soltanto così riusciamo a capire veramente a progettare per le persone e a capire veramente anche come le persone poi usano il prodotto che noi realizziamo se noi non lo realizziamo bene nonostante gli sforzi purtroppo era tardi per stravolgere il prodotto vediamo che costretti ad utilizzarlo lo sottoutilizzano oppure si fanno aiutare fanno metà delle cose che avrebbero potuto fare con quel software utilizzano le versioni precedenti del software ecco questo vale anche per i nostri siti e i nostri servizi se non svolgiamo un buon lavoro già in fase di progettazione che significa non solo fare co-design coinvolgere per capire le esigenze ma anche fare test già sui bozzetti non funzionanti se non facciamo questo rischiamo di creare un prodotto che verrà comunque sotto utilizzato o mal utilizzato e che genererà scarsa soddisfazione ecco io avrei concluso se ci sono